Indagini concluse e avviso di garanzia notificato per il sindaco di Tortorici Carmelo Rizzo Nervo e di componenti della giunta in carica e di quella precedente. L'ipotesi accusatoria è di abuso d'ufficio per aver falsificato i bilanci del Comune Oricense nel 2012 e nel 2014. Le indagini, oltre al primo cittadino, vedono coinvolti Sebastiano Contimica e Antonella Foti, assessori attualmente in carica, e gli ex componenti della giunta Valentina Parasiliti, dimessasi a dicembre, Rosario Contiguglia, Giuseppe Galbato Muscio ed Enrico Talamo. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza, sarebbe scaturita da alcune denunce sulla gestione economica dell'ente. Sotto la lente di ingrandimento delle fiamme gialle, i bilanci del 2012 e del 2014, nei quali la giunta avrebbe inserito voci in entrata irregolari allo scopo di evitare il dissesto finanziario. In particolare, quelle relative alla vendita per lotti di bosco di materiale legnoso dal bosco comunale di località Piano Pomare. Si tratta di oltre 746 mila euro per tre lotti inseriti nel bilancio del 2014, operazione per la quale dovranno rispondere il sindaco Rizzonervo, l'ex vice sindaco Contiguglia e gli assessori Conti, Foti e Parasiliti. Dopo la pubblicazione dell'apposito bando, le gare per la vendita di quel terrero andarono regolarmente deserte. Il bilancio fu poi approvato nonostante il parere sfavorevole dei revisori dei Conti. Nel 2012, invece, con la giunta composta oltre che da Rizzonervo, da Contiguglia, Talamo e Galbato, oltre a quelle derivanti alla vendita della legna del bosco, sarebbero state inserite in bilancio somme per 500 mila euro derivate dalla raccolta dei rifiuti che risultava però gestita dal lato Messina 1.